Diamo la corona in memoria a tutti i caduti di religio poveri e in particolare di Simone Mazzi, caduto nell'adentrimento del suo dovere, ciotto anche il progetto. Nel generoso tentativo per l'improvvisa rottura nel cavo precipitava nel vuoto. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano, un giorno senza rischio e non vissuto. E' importante che controllate Andrea, però dovete controllarvi anche tra di voi perché se lo sa... Sì, è nato. Occiole. Eh, va bene, va. Hai capito? Qui si cammina. Vai, vai. Come andrei? Allonciati. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!